Noi passeremo insieme circa undici mesi, quasi un anno. Undici mesi possono essere tanti, possono essere pochi. Dipenderà soltanto da voi. Dal regolamento di disciplina militare, articolo 7. L'obbedienza al superiore deve essere pronta, rispettosa, leale. Se sarete pronti, rispettosi, leali, andremo d'accordo. Altrimenti... Questa è la compagnia seconda bis. Ma qualcuno potrà far sorridere questo bis, ma io gli dimostrerò che ha torto. Farò in modo che fra una settimana ognuno di voi sia orgoglioso di appartenere alla compagnia seconda bis. Perché con me non sarete soltanto puliti, ordinati, inquadrati, efficienti. No, signore! Questo non basta. Voi vi distinguerete! Voi sarete assolutamente, splendidamente, incredibilmente, massizi e incazzati! Compagnia seconda bis! Atterri! Re, usau! Atterri! A presto! Grazie.